Cambiano le tariffe dei taxi a Bari, arriva infatti il via libera da parte dell'autorità di regolazione dei trasporti al rialzo dei costi delle corse, innalzando le tariffe minime e ritoccando quelle a base fissa, come ad esempio quelle da e verso l'aeroporto. Un cambiamento necessario, chieso da anni a gran voce dai tassisti che hanno sempre sottolineato come il tariffario sia rimasto fermo per troppo tempo dal 2007. In 15 anni infatti la categoria ha sottolineato come siano aumentati i costo della vita e carburante a differenza dei prezzi delle corse. Un reclamo oggi dunque accettato con la motivazione di assicurare, riporta il documento della RT, un servizio taxi che possa adeguarsi ai livelli essenziali di offerta per garantire il diritto degli utenti alla mobilità. Guardando gli aspetti pratici del documento che dovrà passare attraverso la giunta comunale prima di diventare effettivo, la tariffa minima passa da 3 euro nei giorni feriali e 5 nei festivi a 3 euro e 56 euro. La tariffa fissa DAE per l'aeroporto invece aumenta di 2 euro passando da 23 a 25 euro per chi parte dal centro cittadino e di 3 euro per i taxi in partenza da Poggio Franco, Picone, Carrassi e San Pasquale. Linee guide che intervengono anche in materia di trasparenza nei confronti degli utenti chiedendo che il tarifario risulti di facile lettura e di immediata comprensione che venga reso disponibile anche in lingua inglese e affisso nei luoghi con maggiore affluenza di clienti.